Tastico! Tastico! Buongiorno ragazzi, siamo a Quaytun, ora locale 6.47, ora di Pechino 8.47, come si può vedere da qui. Quindi in Xinjiang stiamo due ore più presto, diciamo. E qui il tempo mi dice, vabbè, meno 14 gradi e fuori è bello. Peccato che invece, vedete che è ancora buio, perché è come se fossero le 6.45, peccato che invece nevica. Purtroppo mi sa che con la GoPro non ho riuscito a vederlo, ma sta proprio nevicando e c'è pure vento. Oddio, non ce la farò mai a vedere quel canyon. Vabbè, comunque andiamo a fare colazione, qui è la tessera per la mensa, vediamo se ci sono delle cose mangiabili, delle cose all'occidentale, diciamo. Vabbè, comunque andiamo a fare colazione. È fantastico, tutta la strada è così, bellissimo. Vabbè, comunque andiamo a fare colazione. Sono l'unica che se ne va spassa a meno 10, ma sì che ce frega, tanto siamo abbardati ben bene. Quanto è bello ragazzi, bellissimo, non vi dico il freddo, siamo a circa meno 10 gradi sotto zero. Sarà un po' più caldo rispetto a questa mattina, ma comunque va freddo. Vi sto portando a vedere un canyon, il canyon che si chiama Anzi Hai Da Chao Gu. Vedremo insieme come... io non sto come voi, non mi aspetto niente di grano, niente di piccolo, non so esattamente come sarà. Andiamo a vederlo. Fantastico! Oddio, vi faccio vedere da destra a sinistra, cioè sto proprio sul picco del canyon, ma vi faccio vedere da qui. Andiamo a vedere! Grazie a tutti! 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 Saluti di Anzi Hai! che è molto bello in ogni stagione, guardate sia in inverno che anche d'estate, è bellissimo. Ciao Grand Canyon, ci vediamo forse il prossimo anno. Grazie.